In un piccolo paesino del Bresciano, sta per terminare proprio adesso la Santa Messa di Natale. Ma andiamo a vederli un po' più da vicino, questi Bresciani. In un piccolo paesino del Bresciano, sta per terminare proprio adesso la Santa Messa di Natale. In un piccolo paesino del Bresciano, sta per terminare proprio adesso la Santa Messa di Natale. In un piccolo paesino del Bresciano, sta per terminare proprio adesso la Santa Messa di Natale. In un piccolo paesino del Bresciano, sta per terminare proprio adesso la Santa Messa di Natale. In un piccolo paesino del Bresciano, sta per terminare proprio adesso la Santa Messa di Natale. Aguri!